Un obiettivo importante del nostro banco è la contribuzione alla comunità. E anche un po' di più non stavamo coinvolto in differenti progetti. Per menzionare alcuni, Copa Lito Fútbol, con partecipazione di più di mille, molti e giovani, Copa Lito Baseball, Bondute, Seminario Riba Crimen Cibernetico, Kid's Market, Global Entrepreneurship, Diena Nacional di Leza, Diferente Workshop Nessandustatius e Saba Riba Uso di Online Banking e Tarjeta, E noi bambini ora, Diferente Joven, con la investigazione di competenza dell'exteriore. E così mi può menzionare alcuni più. Mi sembra menzionare che noi bambini stavano in su reto, E noi non ci sono ancora. Una volta del nostro gruppo di notizia, Dalla situazione di noi bancomattica, Nessandustatius. Per attenzare che ci sono qui, ci sono attenzionati il nostro esperto per provare bene così possibile, E' evita un mal funzionamento. Però anche nel caso qui, Riazione più rapidi che possibile, ora qualcosa quando succede. E noi abbiamo anche aiutati, durante la fine di uso in quanto si è più guardato. Non uso la carta che t'accagama, segui le 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 impasse del deposito, non tirelo in envelope e puoi mangiare anche la mail di envelope, di tutto questo che ci ha effetto negativo che ti tiene. Ci siamo a recordare che alla cliente che ci hanno fatto come un pago facilmente con che ci accorgono nel sistema di point of sale, cerca del commerciante o via online banking. Il nostro Banco ha procurato per il sistema alternativo per la banda di uso di cash, più facile, efficiente e meno riscante. E questo mi voglio ringraziare ai lavoratori per l'esforzo di dedicare sempre e in forma extraordinaria con il nostro affrontato il reto. E ora il nostro premio annual di merito. Il nostro premio è che ci mette un'emfasi sulle cose positive per il nostro comune e per il riconoscimento per il gruppo che ha dato un apporto importante. Il nostro servizio è che la lista di organizzazioni per il buonello, che è sopra e salita o più lungo, e ora è che è difficile per scoprire. Il nostro collega ha nominato a differente organizzazioni che ha destacato durante l'anno che è passato e attraverso una foto per il riconoscimento. Il nostro premio è un'emfasi e un'emfasi per il riconoscimento. per 2.500 dollari per ogni organizzazione. per il riconoscimento. Per il riconoscimento per il riconoscimento per il riconoscimento per il vostro lavoro incansabile e critico. in nome del MCB e grazie per il vostro apporto della nostra comunità.